Sono andata in California per fare una serata a Sao Salito E ho guadagnato un sacco di soldi Troppi Mi sono sentita molto male vedendo tutte quelle persone dormire per strada Sui marciapiedi, sotto i ponti, nelle tende Poi inaspettatamente mi sono trovata in mezzo allo sgombero di alcuni senza tetto che stavano sotto un cavalcavia E hanno buttato via loro tutto quello che avevano Allora ho deciso di portarli a mangiare un hamburger Così un po' ho migliorato la loro giornata Grazie Grazie Grazie